È bellissimo guardare i delfini nuotare, ma oggi non è una giornata qualunque. Mamma delfino sta per partorire. Ma noi siamo dottoresse, dobbiamo aiutarla. Mamma delfino si trova a mille metri di profondità e Nemo non può sopportare così tanta passione. Il nostro sottomarino ce la farà, partiamo. Siamo a 800 metri di profondità. Il sottomarino comincia a vibrare troppo. Forza mamma delfino, stiamo arrivando. Ci siamo, il radar dice che ci siamo. L'incubatore è pronto. Aspetta, il radar mi dice che ci sono altre mamme delfino che devono partorire. Tutti per uno e uno per tutti. Mammi su Presto Alpine. Dolcissime mamme delfino che hanno bisogno di te. L'attesa sta per finire. E ora in acqua. In acqua nascono tanti cuccioli delfino. Adotta la tua mamma Surprise Dolphin. Avrai una nuova morbidissima e dolcissima famiglia. Mammi Surprise Dolphin. Sono così carini. Ora però dobbiamo tornare. Il tempo non aspetta. Allora in acqua. Allora in acqua. Allora in acqua. Allora in acqua. Grazie.